E torniamo insieme in studio per proseguire questa nostra diretta. Siamo in compagnia di Padre Piero Vivoli, frate minore cappuccino della provincia di Toscana e presidente della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio. Un caloroso benvenuto, davvero un piacere averla qui ospite questa mattina. Grazie, un buongiorno a voi e anche ai telespettatori. Una bella realtà quella dei centri, nata dall'intuizione di Padre Michele Placentino. Allora, Padre Piero, ci vuole raccontare un po' la sua esperienza in questa realtà, quali sono state le sue impressioni appena arrivato a San Giovanni di Rotondo e cosa sono i centri? Sì, allora io ho conosciuto questa realtà circa tre anni fa, quando sono stato inviato per una visita rutinaria che facciamo all'interno dell'Ordine per vedere la situazione economica sia della provincia ma anche degli enti che vi afferiscono. Ho conosciuto un po' di striscio, diciamo, la fondazione, poi dopo mi è stato chiesto di entrare nel Consiglio di Amministrazione. Ad oggi posso dire che la fondazione è una grande famiglia, una grande famiglia che come ogni famiglia ha un denominatore comune che è il sangue, il sangue non quello che scorre nelle vene, ma che è l'obiettivo di fondo e che è lo stile, che sono i due aspetti fondamentali proprio della fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio. L'obiettivo è quello di essere prossimi a chi tende la mano, a chi sta sperimentando una particolare pesantezza che la vita dissemina, come fa sempre, è sulle spalle di ogni uomo. E' proprio l'atteggiamento del chinarsi su queste ferite, su queste pesantezze, che è l'obiettivo e allo stesso tempo lo stile che la fondazione vuole avere. Questo è il sangue, direi, questo è il denominatore comune, questo è l'elemento che qualifica la fondazione Centri di Riabilitazione nell'accostarsi ai nostri utenti. Sono tante le storie di sofferenza vissute, soprattutto dai più piccoli. Questa è forse la realtà più caratteristica, appunto, che almeno storicamente ha caratterizzato appunto la nascita e l'evolversi dei centri di riabilitazione. Tante storie di sofferenza aggravate negli ultimi tempi, anche sappiamo benissimo dalla pandemia. Ecco, in questo, qual è la missione specifica dei Frati Minori Cappuccini in un ambito così delicato sull'insegnamento di Padre Pio e di Padre Michele Placentino? Ma io direi che l'accostarsi alla sofferenza è un aspetto che non discrimina, ma prima direi questo. È vero che la sofferenza dei bambini, la sofferenza è una sofferenza che ci colpisce, ma la sofferenza è sempre uguale, ci accomuna un po' in tutti. Mi viene in mente un'immagine evangelica che può descrivere proprio la modalità e l'approccio che i frati Cappuccini, ma tutti i frati francescani in generale, hanno sempre nei confronti della sofferenza. Ed è l'immagine dell'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico e che incappano i briganti e poi arriva il sammaritano. Ecco, mi piace vedere nei frati questi, e negli operatori, i nostri operatori, proprio questi sammaritani che compiono un gesto straordinario che è quello di chinarsi, di chinarsi sulle sofferenze. E perché dico un gesto fondamentale e importante? Perché chi utilizza il servizio che compie come gesto di potere rimane in piedi. Chi invece vede in quello che fa un servizio autentico, una presa in carico, una cura della sofferenza, una volontà di versare olio e vino sulle ferite di coloro che si presentano a noi, ecco, si mettono, si chinano. Io credo che il francescanesimo, padre Pio, padre Michele abbiano sempre avuto di fronte questo obiettivo, di fronte alla sofferenza ci si china. E quel valore aggiunto che nasce appunto da una realtà imperneata dal punto di vista spirituale su un esempio così grande ed importante. Ed è il surplus che possiamo trovare in una realtà del genere proprio perché magari al di là di quelli che sono gli aspetti tecnologici, professionali, presenti, l'aspetto spirituale lo ha sicuramente tanto. E su questo abbiamo anche l'esempio appunto dell'opera di padre Pio, casa solida della sofferenza, la preghiera, la malattia. Ecco, in questo caso, nella specificità dei centri, come viene dato quotidianamente questo aspetto offerto ai fruitori dei servizi? Sì, io a maggio ho visitato tutti i centri, sia per vedere negli occhi i nostri operatori e per ringraziarli per quello che fanno ogni giorno. E ho sottolineato proprio questo aspetto. Ho sottolineato, cioè, l'aspetto che la professionalità è fondamentale, perché chiaramente noi siamo chiamati a fare un servizio e a farlo bene. Ma c'è l'aspetto dello stile, è l'aspetto dello stile con il quale ogni giorno noi siamo chiamati a dire alle persone, e già questo è un termine fondamentale, non agli uomini, ma alle persone, non agli utenti, ma alle persone che si accostano a noi, che nonostante i loro pesi rimangono comunque delle persone. E questo si fa attraverso quello stile che Padre Michele ha comunicato ai primi operatori e che i primi operatori stanno comunicando, che è quello della gioia, che è quello dell'ascolto, che è quello della benevolenza, che è quello dell'attenzione, che è quello di veramente mettersi lì, di fronte ai pazienti, ai malati, alle persone, appunto, che abbiamo e dirgli tu vali. Lo stile anche della gentilezza, lo stile della delicatezza, ecco, questi sono tutti lo stile dell'umanità. Quando appunto ho visitato gli operatori e hanno sottolineato questo aspetto di Padre Michele, io non ho conosciuto Padre Michele, però in qualche modo l'ho conosciuto attraverso di loro e questa è una cosa molto significativa. La grande umanità di quest'uomo, che non era il presidente dell'associazione, poi della fondazione, ma era il padre che dispensava la prossimità, la propria paternità proprio agli operatori e alle persone che si accostavano a noi. Ecco, Padre Piero, sicuramente in sintesi ci ha dato un'idea di quella che effettivamente la realtà è l'anima della fondazione dei centri di riabilitazione Padre Pio, ma mentre ci avviamo alla conclusione di questo nostro primo appuntamento che vuole essere anche una sorta di introduzione a questa bella realtà, come dicevo, se dovesse fare un resoconto di quelle che sono state le sue prime impressioni, impressioni avute anche nel corso di questi mesi in cui ha incontrato appunto gli operatori, anche stesse famiglie, persone che hanno queste difficoltà. Ecco, che idea si è fatto di questa realtà che forse era anche lontana dai suoi pensieri fino a qualche tempo fa. Oggi cosa ne pensa? Io credo che sia una bella realtà che ha una prospettiva grande di fronte e la prospettiva cioè di radicarsi ancora di più nel territorio, di andare verso le persone, di sollevarle, come dicevo, dalle loro sofferenze e la prospettiva di anche una collaborazione a più ampio raggio con altre realtà similari, cugine alle nostre per renderla ancora più bella, più grande e per offrire un servizio alle persone ancora più efficace rispetto a quello che offriamo oggi che è tanto ma che come ogni cosa umana è evidentemente perfettibile. Sicuramente. Allora un rapido pensiero a queste persone che vivono situazioni di difficoltà, di sofferenza e che ancora non hanno avuto la possibilità di incrociare gli sguardi degli operatori dei centri di riabilitazione da frate. Cosa sente di dire loro? Io mi sento di dire che intanto chiedere aiuto è un'esperienza di nobiltà della persona e quindi se si trovano in difficoltà noi ci siamo la nostra porta è aperta noi siamo felici di incontrare di ascoltare e di entrare anche nelle loro case perché la maggior parte del nostro lavoro si svolge proprio in questo nell'entrare nelle case entrare nelle case in punta di piedi come si fa quando abbiamo di fronte qualcuno che deve essere rispettato e noi ci siamo per voi qualsiasi cosa siamo qua. grazie di cuore a Padre Piero Vivoli per averci dato la sua testimonianza quest'oggi e appunto strappiamo una promessa di tornare anche a farci conoscere attraverso altre esperienze in maniera sempre più approfondita questa bellissima realtà che è appunto costituita dalla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio grazie e buon lavoro Padre Piero grazie a voi pace e bene noi ci fermiamo per qualche istante diamo la linea alla regia e poi torneremo ancora insieme